In Serie D al buon riposo è andato in scena il match tra Seravezza Pozzi e Tao Alto Pascio, terminato 1-1. In vantaggio i padroni di casa con Pozzolo al diciottesimo del primo tempo, gli ospiti hanno pareggiato nella ripresa al quattordicesimo con Malva, un pari agrodolce, giusto per un tempo ciascuno delle due squadre. Il primo è andato ad opera dei versigliesi, nel secondo sono stati bravi gli ospiti. Il Giviborgo era al Livorno, ha subito una pesante sconfitta per 4-1 dopo 4 minuti e Farinas Tafnel per gli Amaranta a sbloccare il risultato, poi c'è l'immediato pareggio di Signorini che illude, ma il Livorno torna in vantaggio con Camara, poi è la volta di Giordani e chiude le marcature Tenkorang, un Livorno che è partito forte ed ha preso probabilmente in contropiede il Giviborgo. Real Forte Querceta era a Ponzac e ha conquistato una vittoria davvero salutare per 2-0 con le reti di Masi dopo 11 minuti dal via e il sigillo del 2-0 porta la firma nel finale di gara del capitano Pegollo. E questa è certamente una partita che dà morale ai ragazzi di Francesco Buglio, grande vittoria nello scontro salvezza per i bianco nero azzurri. In eccellenza la Massese ha vinto 2-0 su Blanciotto, Tutto Cuolo Camaiore 0-0, Perignano River Pieve 1-0. In promozione rinviata la partita Monzummano-Viareggio, Pieve Fosciana-Luco 0-0, Dicomano-Castelnuovo 0-2, San Marcavenza-Pontremolese 0-1 riposava il Pietrasanta.